allora no coltist è stato cancellato dal canale la violazione del copyright quando è successo come ho visto tutti i video che avevo da 10 anni fa quando io ho visto tutti quei video veramente belli però come ho visto e perciò quella pubblicità malefica pubblicità malefica 2 3 4 e 5 6 con questo che è già finito cioè era bello come si è sempre visto da qualche parte su youtube ora che è stata violizzata dal canale non può vederli più dovete trovare sul canale no called it reuploads su facebook nella descrizione cioè ritornerà qualcosa ritornerà presto è tutta colpa di quei di quei cose che non si succede mai non tu sia mai è stato è stata la violazione non tornerà mai quel canale fra poi tornerà quel che perché altri video su no codici di applausi vuole trovare nella descrizione c'ha po c'ha pochi che non hanno caricato per lasciar tanti di video quella parte vera ho visto ci vediamo prossimo blog